MENTE SUPERNORMALE Come si vive nella regione della mente supernormale? Commento Chi vive nella regione del piano mentale chiamata mente supernormale o ragione pura vive i pensieri come un bagliore che non ha forma e non contiene altre immagini visive. A mano a mano che si scende dalla mente supernormale alla mente intellettiva ci si immerge nel mondo della percezione. I pensieri assumono una forma e sono visualizzabili. Una visualizzazione tenace e sorretta da una forte volontà diviene l'ingrediente principale di ogni magia. Un desiderio visualizzabile a lungo in tutti i suoi particolari ha molte probabilità di materializzarsi nel piano fisico.